ciao fragoline nuova ricetta ovviamente chiesta da voi l'altra volta avevo fatto il video dei panini e un ragazzo se non mi sbaglio mi ha chiesto se facevo la ricetta della maionese per cui adesso vi faccio vedere come faccio la maionese i procedimenti prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video che io pubblico mettere un bel mi piace a questo video commentino qua sotto e seguirmi su instagram mi raccomando iniziamo allora prima vi dico gli ingredienti e ve li lascio qua gli ingredienti sono un tuorlo ovviamente la maionese poca se volete più maionese aumentate le dosi un tuorlo 220 ml di olio di girasole mi raccomando 10 ml di eccetto di vino bianco questi sono gli ingredienti ovviamente gli ingredienti lo vedete anche qua in questo video piccolino io uso questi prodotti per fare la maionese iniziamo con la preparazione allora prima di tutto ovviamente vi faccio vedere la clip intanto che io parlo cioè vedete la clip allora prima di tutto dovete prendere il tuorlo metterlo nella ciotola e con la frusta dovete mischiarlo con l'aceto di vino bianco lo frullate bene cioè lo mischiate bene col frullatore fino a quando non vedete che si è formata tipo un liquido insieme diciamo poi dopo aver fatto questo procedimento prendete l'olio di semi usate le fruste mettete l'olio piano un po alla volta e continuate a mischiare scusate non so perché mi sto impappinando comunque detto questo dovete finire praticamente tutto l'olio di girasole un po alla volta fino a quando non vedete che forma tipo la crema deve essere tipo crema per cui fino a quando non vedete che si forma la crema come state guardando in questa in questo pezzettino ovviamente la maionese è pronta mi raccomando fate attenzione perché io certe volte ho sbagliato dovete mettere il tuorlo e l'aceto e mischiare prima di aggiungere l'olio di girasole perché a me è successo che se metto già il tuorlo con l'aceto vino bianco l'aceto di vino bianco e l'olio di girasole tutto insieme ovviamente la maionese non viene fuori invece se usate il tuorlo e l'aceto e iniziate a mischiare come come avete visto nel video state certi che la maionese vi viene gli ingredienti sono tre sono questi tre qua vi faccio vedere che sto mangiando un petto di pollo e siccome ho detto vabbè faccio questa ricetta volevo anche assaggiare dato che mi sono dimenticata nel video mettete anche il sale ovviamente assaggiate quando avete mischiato tutti gli ingredienti assaggiate mettete il sale io metto almeno due pizzichi di sale dato che mi sono dimenticata di mettere il sale io poi l'ho messo dopo perché non era salata la maionese però dovete assalarla per cui aggiungete il sale non so perché ma mi dimentico sempre di dirlo comunque la maionese era buonissima come avete visto dalle del video delle clip che ovviamente sto mangiando il se la smetto magari di dire ovviamente è meglio e era buonissima perché poi l'ho messa con il petto di pollo e come vedete la maionese bella non è liquida è bella densa come la crema per cui fate così che verrà buonissima e vi assicuro che se ci mettete il sale magari non come me verrà ancora più buona perché sa di qualcosa invece se non mettete il sale non sarà non saprà di niente niente a fine video vi lascerò le foto così vi faccio vedere come è venuta ma credo che si vede già nella clip non so se volete fare questa ricetta mi raccomando taggatemi su instagram che io poi ve la metto nella storia però vabbè ve la metto nelle storie per cui mi raccomando fatela che è buonissima e poi semplice semplice da fare anche perché ci sono solo tre ingredienti detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdere neanche un solo video lasciate un bel like iscrivetevi e seguitemi su instagram noi ci vediamo al prossimo video spero che questa ricetta vi sia piaciuta ciao e al prossimo video